Alleati per il futuro è il tema della 96esima giornata per l'Università Cattolica, prima tappa del percorso di preparazione al centenario dell'Ateneo che verrà ufficialmente aperto con l'inaugurazione dell'anno accademico e che mette in stretta relazione la costituzione dell'Istituto Tognalo con quello della Cattolica, un'occasione di riflessione per promuovere il ruolo dell'Ateneo dei Cattolici nella costruzione di un futuro per i giovani e per l'apporto della cultura cattolica nel ridisegnare le prospettive di ripresa dopo la pandemia. Gli iscritti all'Università Cattolica in tutte le sue sedi sono oltre 43.000. Per andare incontro al futuro che ci chiama non si può andare da soli, perciò ci vuole un'alleanza per il futuro, alleanza di docenti e studenti, alleanza di università e società. Ci vuole pensiero, ci vuole competenza, perciò c'è una università. Ecco, il futuro è vocazione. La Università Cattolica si propone di accompagnare al compimento delle proprie scelte decisive. Conoscenza, anzitutto, significa informazione, ma significa anche qualcos'altro. Conoscenza significa relazione, elaborazione dei processi di conoscenza e significa soprattutto relazione tra coloro che ne sono protagonisti. Questo è l'elemento più nobile e fondamentale che appartiene alla missione di una università. Creare dei legami interpersonali, che siano dei legami di senso o di ricerca di senso e di significato del nostro essere e del nostro agire.